I 10 secondi, non sempre particolarmente risoluto dal punto di vista anche psicologico-mentale E lontano dalle gare da qualche tempo, dai trials giamaicani in cui ha avuto dei problemi fisici Si era in testa per molto, poi si è irrigidito Per tutti, a parte Blake, sono stati un pochettino un momento di svolta C'è anche Giurandi Martini, attenzione, che adesso batte bandiera del paese coloniale Non antille olandesi, ma Olanda, le antille olandesi non esistono più Salvo partecipazione individuale di un atleta che abbiamo visto in precedenza Sui 400 È un partente Asafa Powell, lo è anche Gemini Asafa Powell, Gemini Asafa Powell lo controlla, va a vincere lui, Gemini tiene E poi il terzo posto di Giurandi Martina Campione d'Europa con la stafetta 4% con il suo nuovo paese Paesi bassi, dopo che appunto il territorio delle antille olandesi è stato di fatto assorbito come terra d'oltremare 10.04, Asafa Powell, vento nullo Adam Gemini va a far 10.11 Il ragazzino